L'artista esistenzialista Ranocchia L'Acqua Santa. Perché Ranocchia L'Acqua Santa? C'è un video che ho potuto vedere, ma non è in italiano. In italiano noi, fra internet o altro, non c'è poco o nulla. Credo sta americano, nel senso che sento una dicitura americana, un parlare americano. C'è l'uscita del quarto uomo manganilla, c'è il signor Ranocchia che sputa, se proprio possiamo dire letteralmente sputa, addosso al quarto uomo. O quantomeno a breve passi dal suo passaggio. Poi c'è il finale, c'è il conto che va verso l'abito, ok, le cose che conosciamo. Quindi che dire, Ranocchia L'Acqua Santa, cosa dobbiamo dire? Più che uno sputo è acqua benedetta, diciamo, è la benedizione che Ranocchia, i fosi dell'Inter, tutti quelli che volete, insomma, l'Inter, fam, manganilla, il quarto uomo, signori, è una cosa irriguardosa, schifosa, vergognosa. Io penso che lo sputo sia la cosa peggiore che l'essere umano, chiunque esso sia, possa, diciamo, rappresentare, perpetrare verso un suo simile o presunto tale. Dovremmo chiedere al signor Ranocchia qual è la considerazione che lui ha dell'essere umano, a parte il risultato di Inter, Cagliari. Quindi io credo che, così come penso, due o tre giornate, più tre che due, a Lautaro Marchinez, penso che alla fin fine, probabilmente anche più di tre, al signor Ranocchia, credo che quel gesto è semplicemente vergognoso. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.